Ciao a tutti amici, oggi parleremo della canna Modularis dedicata a Luccio. Canna lungo 2,70 m per un range d'azione che raggiunge 100 grammi tranquillamente. Canna elegantissima, leggerissima, monta anelli Fuji, doppio ponte, carna 2,70 per 100 grammi di azione, perfettamente bilanciata, leggerissima, gestisce pesi realmente fino a 100 grammi senza nessun problema. Sotto ho abbinato un molinello, un carbon match, sempre dell'allux alcedo, leggerissimo, leggerissimo. Ho preferito montare una bobina match perché sui trecciati, come tutti ben sapete, non ho l'esigenza qui di lanciare lontano, quindi una bobina match mi permette di lanciare più lontano sul lago, sulle classiche bobine che vanno dai 135 oppure dai 150 m. Questa è la novità di oggi, speriamo di allemare qualche lucciotto, per me noi vediamo la canna come va in piega. Io ho già fatto qualche lancio così, ma giusto per provare non mi ha dato nessun problema, adesso ho cominciato a pescare sul serio. Speriamo di prendere qualche lucciotto, a dopo. Modularis di alcedo, abbinato al carbon match. Adesso vediamo un bel lancio, vediamo come gestire. Questa è un'esca che pesa all'incirca sui 45-45 grammi. La canna ha la bella schiena ma ha la punta sensibile, la bella punta. Ho una canna che lancia 100 grammi, adesso spariamo l'esca e vediamo come si comporta. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A modulare si dà il cedo tranquillamente, ci è cacciato senza problemi. Adesso salamiamo il piccolo lucciotto e lo liberiamo. Grazie a tutti. Ok, liberiamo il nostro amichetto. Ok, grazie. Grazie a tutti.